In poche parole, perché è importante essere qua stasera e qual è il significato di questa contestazione spontanea? Io sono di formazione un educatore professionale, molti tuoi colleghi mi chiedono cos'è che possiamo fare per i giovani, per i minori e quello che manca, soprattutto a Como, sono degli spazi di aggregazione e le piazze sono il principale spazio di aggregazione se non vogliamo che i giovani e i minori passino il loro tempo in internet, sui cellulari o sui tablet. Chiudere uno spazio di aggregazione dove le famiglie vengono, magari hanno il momento di rilassarsi, parlare, fare un aperitivo e avere i figli che socializzano e giocano con altri bambini di altre famiglie è una follia totale, è inconcepibile.